Amici, Malgioglio e bravi confermati come del talent show di Canale 5. Mercoledì 8 marzo 2023 sono arrivate le anticipazioni ufficiali del serale di Amici 22. Ultima fase del talent show ideato da Maria De Filippi che partirà sabato 18 marzo. Ad annunciarle è stato l'account Instagram ufficiale del programma di Canale 5. Dal quale sono emersi i nomi dei tre giudici della nuova edizione, Cristiano Malgioglio. Giuseppe Gioffre e Michele Bravi, che prenderanno il posto di Stash dei Decolors. Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, che sono stati nel cast della giuria nelle ultime due edizioni di Amici. M. Michele Bravi è stato il primo giudice di Amici 22 ad essere stato annunciato dal profilo Instagram ufficiale del programma di Canale 5. Il cantante vincitore di X Factor 2013 e Tarigi ha ricoperto il ruolo di tutor assieme ad Annalisa e Giovanni Cacamo all'interno del talent show targato Maria De Filippi. Del quale è stato spesso ospite. Accanto a Bravi, ci sarà anche Cristiano Malgioglio. Cantautore e paroliere siciliano che è stato spesso chiamato a giudicare le sfide esterne degli allievi del talent show di Mediaset nelle puntate speciali di domenica. L'artista nato a Ramacca, in provincia di Catania nel 1945, ha già avuto un trascorso come giurato in diversi programmi televisivi. Tra cui tale e quale show, tale e quale Sanremo e Natale e quale su Rai 1. Il terzo giudice di Amici 22 confermato è Giuseppe Gioffre, ballerino di 29 anni originario di Gioia Tauro. In provincia di Reggio Calabria, vincitore della sezione danza dell'undicesima edizione del programma di Maria De Filippi. Nel corso della sua carriera, Gioffre ha lavorato per star internazionali, tra cui Ariena Grande. Jennifer Lopez, Taylor Swift e Britney Spears. Nel corso della registrazione del pomeridiano di Amici 22, avvenuta giovedì 23 febbraio 2023. Sono stati esclusi dal serale il cantante Marco Fasano, in arte Niveo e la danzatrice Benedetta Vari. Quest'ultima però ha ricevuto una proposta lavorativa per entrare nel cast dei professionisti e ballare dei passi a due assieme a Mattia Zenzola nel corso delle nove puntate del serale del talent show di Maria De Filippi. I 15 allievi che hanno dunque ottenuto la maglia per accedere all'ultima fase del programma sono i cantanti Angelina Mango. Cricca, Giovanni Cricca, Wax, Matteo Lucido, Aaron, Edoardo Boari, Piccolo G, Giovanni Rinaldi. Ndg, Nicolò Di Girolamo, Federica Andreani, e i ballerini, Isobel Kinnear. Samu, Samuele Segreto, Mattia Zenzola, Ramon Agnelli, Meigherria, Gianmarco Petrelli, Maddalena Svevi e Alessio Cavaliere. Grazie a tutti. Grazie.